Sabato scorso il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, ha sciolto la riserva sul ritorno a scuola dei bambini, delle classi delle elementari diverse dalla prima e dei ragazzi delle prime medie, il cui rientro era stato programmato eventualmente per il 30 novembre. La regione però prende ancora tempo e decide di attendere un'ulteriore settimana in cui bisognerà procedere con gli screening volontari agli studenti e ai loro familiari. Resta invece consentita la lezione in presenza per i bambini dai 0 ai 6 anni e quindi per l'infanzia e per la prima elementare. Questi principali punti dell'ordinanza con decorrenza dal 30 novembre, si legge, fino al 7 dicembre restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria, diverse dalla prima, quelle della prima classe e della scuola secondaria di primo grado, nonché quelle concernenti i laboratori. E' dato mandato alle ASL territorialmente competenti di continuare gli screening attraverso somministrazione di tamponi antigenici su base volontaria al personale docente, non docente, agli alunni interessati e relativi familiari conviventi in vista della ripresa delle attività in presenza a far data dal 9 dicembre. Con decorrenza immediata restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e o con disabilità. Con decorrenza immediata restano altresì consentite le attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia, il sistema integrato di educazione e distruzione 0 ai 6 anni, nonché della prima classe della scuola primaria e delle pluriclassi della scuola primaria che comprendano la prima. E' demandato alle ASL territorialmente competenti il monitoraggio dell'andamento dei contagi e la comunicazione ai sindaci dei dati di rispettivo interesse. E' consentito ai sindaci sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure eventualmente necessarie. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l'esercizio in sicurezza delle attività didattica in presenza. E' dato inoltre mandato all'unità di crisi regionale di programmare periodiche misure di screening relative al mondo della scuola con modalità tali da consentirne la capillarità sul territorio. La situazione scuola sulle isole di Ischia e Procida è però diversa. I sindaci hanno infatti adottato proprie ordinanze per mantenere chiuse le scuole anche per l'infanzia e per le classi prime della primaria. Perché e soprattutto si manterrà questa linea, nonostante il possibile ritorno a scuola di alcune classi previsto per il 9 dicembre, A breve, nei prossimi giorni, scadranno le ordinanze dei sindaci, ma l'intenzione che si palesa col passare dei giorni è quella di tenere tutto chiuso almeno fino a fine anno, nonostante l'ultimo report ASL evidenzi una situazione epidemiologica in miglioramento sulla nostra isola. Tuttavia è proprio grazie all'ordinanza di De Luca che i sindaci trovano la giustificazione ai propri provvedimenti. Manca al momento una comunicazione con dati ufficiali relativi allo screening, così come sono ancora molte le difficoltà per la prenotazione dei test, spesso le linee telefoniche sono intasate o irraggiungibili. Il servizio sta via via migliorando, sì, ma non c'è al momento nessuna traccia dei risultati. Ed in questo periodo tutti i sindaci, tranne Rosario Caruso che può contare su un quadro più chiaro della situazione epidemiologica, anche senza lo screening, nessun primo cittadino vuole rischiare di avviare altri focolai nelle scuole prima di Natale. Restando ormai pochi giorni alle festività, appare evidente che il rischio è superiore al beneficio. Ma un primo poi bisognerà rientrare a scuola, così come avviene in tutta Italia e a breve anche in tutta la Campania. È arrivato quindi il momento di programmare seriamente un rientro sicuro a scuola a partire dall'anno nuovo tramite lo screening e tramite i protocolli di sicurezza previsti per gli istituti scolastici.